La mia sarta mi dice, io lavoravo già da sola e avevo anch'io due o tre ragazze con me, ma ha detto che ci sarebbe da fare una serie di cappotti perché scappano via e devono essere vestiti tutti uguali per sembrare un collegio. Però non si prende niente, si lavora gratis. E allora dovevamo fare questi paletò lunghi, lunghi, fino ai piedi, erano verde scuro scuro, mi ricordo. Marron, tutti uguali. Perché c'era stata, mi sembra, una soffiata di dire che questi qui dovevano andare via prima del tal giorno perché stavano arrivando i tedeschi. Allora io sono andata con le mie tre ragazze, lei ne aveva due, è venuta un'altra sarta, insomma ci siamo radonati in dieci e abbiamo fatto 40 cappotti in una settimana, tutti uguali, abbiamo lavorato così. Eravamo poi in 7-8 perché c'era la Cesarina, c'era la Dede, la Nera, e poi c'era la Lauretta, e poi chi c'era? Che sì, eravamo in 7-8 insomma. Cinque bottoni davanti, il collo qui, la cintura, le tasche, un cappotto che usava allora, insomma. Dovevano sembrare un collegio, che andava in vacanza in Svizzera, così ci è stato detto dopo, dopo. Chi faceva i sottopunti, chi faceva le asole, chi faceva con le macchine. Da domenica a quell'altra domenica ci siamo messe lì, la mia maestra tagliava, 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 tagliava. Due sarte con le macchine cucivano, sempre, io stiravo perché lavorando bisogna anche stirare per proseguire il lavoro e le altre più piccole, più giovani, sottopunti. Io ero la più piccola, ma tante di quei sottopunti, e poi è andata bene che sono arrivati poi a destinazione questi ragazzi. Una mia amica ha fatto 40 cinture, perché erano 40 cappotti, ci voleva 40 cinture, e 80 tasche, perché lei ha fatto le tasche. Un'altra ha fatto tutte le asole, un lavoro a catena, ecco. Donna Rigo ci aveva fatto avere questi rulli di stoffa e da lì si faceva la lavorazione, si tagliava, un po' in base alle medie, piccoli, meno piccoli, e poi dopo fino ai grandi, ecco, con i paletologhi così. Quelli che usavano una volta con queste cinture, con quella piega dietro, usavano, mi ricordo, grigio-verde erano. E senza provarli, perché tagliare questi cappotti, la mia maestra li conosceva un po' tutte, erano ragazze che dovevano indossare questi cappotti, eh, non i maschi. Li conosceva un po', però fra di noi c'era una ragazza che era, era sfolata non antola, ed era di non antola, però ad alcuni anni lavorava a Milano e ci insegnò le taglie come vanno fatte, insomma. Un paletologo lungo così, ci vogliono le maniche lunghe così, circa, perché noi facendo i lavori su misura, allora non si sapevano le taglie come erano, taglia 42 e taglia 44. Adesso c'è una regola, è vero? Era un'avventura, un gioco, non si capiva bene allora, anche perché io poi era timidissima, era piccola, venivo dalla campagna, le altre erano più grandi, erano più vispe. Forse loro hanno intuito anche tante più cose che me, ha capito, perché io ero timidissima da bambina, insomma. I cappotti non li abbiamo mai provati, 40 cappotti, solo che ce ne sono venuti 39, quello dei 40 ci mancavano le maniche. E allora c'è una signora, che non mi ricordo chi fosse, ci ha fatto le maniche di lana, di stoffa, di lana così, perché era un rotolo di stoffa così, marron, tutti uguali. Ci fu due mercerie qui a Nonantola, uno che ci ha dato le fodere gratis, sapendo di questa cosa ci ha dato le fodere per foderare i cappotti, un'altra ci ha dato i bottoni, perché è stato un po' di passaparola, capito? Però non una gran, delle gran chiacchiere, ecco, non abbiamo, e poi anche noi non ci pensevamo neanche più. Così abbiamo fatto un tour lì, bellissimo, poi dopo sono partiti alla mattina presto, mi pare, alle 4 e mezzo, 5, con Don Arrego. E allora, anche a Modena, quando hanno pubblicato il primo libro sugli ebrei di Nonantola, perché per 30 anni nessuno ha mai detto niente, 30 anni dopo la guerra, anch'io con le mie amiche, si poteva dire, ma di ricordo quando abbiamo fatto i cappotti? Ecco, poi basta, non ci siamo mai chiesti dove si erano andati, non c'era nessuno, secondo me, che si interessava di questi ragazzi, che fine avevano fatto. Non c'è stato un gran, dopo tutto a tacere, che mi ricordi io, tutto è andato a tacere, dopo se ne è cominciato a parlare un po' dopo, un po' dopo. Dopo tanti anni hanno pubblicato a Nonantola un libro che parlava di questi ragazzi. Dopo 30 anni, perché io vado da 20 a 30 anni, ho detto, ma qui nessuno parla dei nostri cappotti. Ho sentito una mia amica e ho detto, ma come mai che non parlano dei nostri cappotti? Abbiamo fatto qualcosa anche noi per questi ragazzi. Prima di tutto, tutti speravano che questi bimbi andassero a buon fine, prima di tutto. E poi tutti in compagnia, così, giorno e notte, facevamo i turni a riposarsi, ha capito? La mia sarta aveva sposato uno che aveva l'osteria sotto, ci portavano sul gnocco fritto, ci portavano da mangiare, ci siamo divertite anche, ha capito? In dieci, lavorare in due stanze, aperta la camera da letto della mia sarta, perché mettevano lì, insomma, è stata una cosa anche proprio vissuta bene. Grazie a tutti.